Sarà ancora un anno di sacrifici, il prossimo per gli studenti sulmonesi a settembre, quando le campanelle suoneranno il primo trillo non cambierà nulla, se non lo stato di avanzamento dei lavori per qualche edificio scolastico, in primis per la Masciangeli. A sostenerlo l'assessore ai lavori pubblici Nicola Angelucci che abbiamo ascoltato in un'intervista. In questo momento stiamo facendo un piano complessivo di tutto quello che è il mondo scolastico, soprattutto con un focus particolare sulle due situazioni che sono andate in supplenza sulla Masciangeli e sulla Lombardo Radici. Su queste due strutture, i MUSP di Viale Mazzini e l'ex Croce Rossa dell'area artigianale, sono le due strutture che ancora per l'anno prossimo sicuramente dovranno ospitare i bambini. E su queste due strutture, parallelamente a tutto il lavoro che si sta facendo sulle scuole di Sulmona, dobbiamo lavorare per trovare delle sinergie e migliorare le condizioni che ci sono attualmente per poter dare poi agli stessi bambini una situazione di uguaglianza quasi uguale rispetto a tutte le altre scuole. Mi riferisco alle strutture per il tempo libero, per fare ginnastica, alle attività di mensa, alle attività di laboratorio e su questo ci dobbiamo impegnare in questi due mesi per metterli a disposizione delle situazioni importanti. E mentre i genitori attendono un incontro con l'amministrazione comunale che, come ha sottolineato Angelucci, arriverà a breve, si pensa a trovare ulteriori soluzioni per cercare di risolvere il problema dell'edilizia scolastica. Da troppo tempo legata ad un palo. Anni di sopportazione per le famiglie e ragazzi costretti a vivere in istituti scolastici accorpati e nei MASP. Una situazione che sembra non essere più tollerata, soprattutto perché la precarietà comporta troppi problemi. L'assessore sembra essere fiducioso, nonostante sia cosciente delle gravi difficoltà, ma si dice pronto a raggiungere degli obiettivi precisi, affinché l'amministrazione possa cominciare a restituire qualcosa alla città. Questo sì che potrebbe essere l'avvio di un futuro più roseo, ma al momento i semafori sul masterplan sembrano ancora essere tutti rossi, aspettando quel fatidico verde che darà il via libera alla scuola sicura.